Il gruppo Renault ha sempre amato ed è sempre stato fedele ai saloni dell'auto e quindi siamo orgogliosi oggi di essere al motor show di casa nostra possiamo dire a Parigi, ancora una volta con un'esposizione straordinaria, 5 stand, 5.000 metri quadri, 7 anteprime mondiali e 2 concept car. Quindi veramente la marca Renault presenta al grande pubblico l'innovazione con Emblem, l'offensiva elettrica con Renault 4 iTech Electric in anteprima mondiale ma anche R5 che già conoscete e Twingo, i nostri tre moschettieri. Allora per raggiungere l'obiettivo zero emissioni nel 2040 in Europa e nel 2050 in tutto il mondo stiamo davvero rivoluzionando il modo di progettare e produrre i veicoli. Renault Emblem, fucina delle innovazioni di Renault e Ampère, ne è la prova, una visione di auto per le famiglie che punta ad emettere il 90% di CO2 in meno rispetto agli odierni modelli equivalenti e a farlo dalla culla alla tomba, ossia dalla progettazione a fine vita. È una station sportiva alimentata da un sistema B-Energy, quindi motorizzazione 100% elettrica, batteria da 40 kW per gli spostamenti quotidiani e una cella combustibile ad etrogeno per i lunghi viaggi. Quindi il gruppo Renault ancora una volta all'avanguarda dell'innovazione per far progredire mobilità e industria dell'auto. Ma al Salone dell'Auto di Parigi alziamo poi il sipario su un altro sogno che diventa realtà. Renault 4, l'auto blue jeans, l'icona degli anni 60, l'auto per tutti e tutto, simbolo di libertà, completamente reinventata, diventa più che mai una vuotura a vivere dei nostri giorni. 100% elettrica, connessa, compatta, camaleontica, siamo sicuri che conquisterà tutti con il suo design retro-futuristico da avventuriera, contribuendo con l'A5 all'obiettivo di democratizzare i veicoli elettrici in Europa. Si può indossare in ogni circostanza, in città, in campagna, in montagna e in autostrada. Benvenuta a Renault 4. E chiudiamo la carrellata di novità con lei, l'auto da sempre più simpatica, vispa, sbarazzina della nostra gamma, la Twingo. Ecco la Showcar Twingo E-Tech Electric Prototype, preannuncia il futuro veicolo di serie che dal 2026 vedremo nelle nostre strade e nei nostri centri urbani e che proporremo ad un prezzo inferiore a 20.000 euro perché vogliamo renderlo accessibile davvero a tutti. Come nel 1992, all'origine, con le sue tinte vivaci, gli occhioni rotondi e maliziosi, colorerà la nostra vita quotidiana accompagnandoci con brio e agilità. Quindi al Salone dell'Auto di Parigi 2024 Renault presenta dunque tanti nuovi prodotti con tecnologia all'avanguardia per affrontare tutte le nuove sfide dell'industria dell'auto. Stiamo accelerando la nostra trasformazione per diventare il costruttore più progressista in Europa.